Dal 17 maggio dovrebbero aprire le prenotazioni per gli over 40 come da indicazioni del commissario figliuolo. Io lo farò immediatamente. Lo ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga raccogliendo così l'invito della gestione commissariale e aggiungendo che in Friuli Venezia Giulia c'è una buona partecipazione alla campagna vaccinale degli over 50 nei primi giorni di apertura delle agende. Tanto che il suo vice Riccardo Riccardi ha annunciato nel pomeriggio l'ulteriore ampliamento della platea delle persone che possono accedere alla campagna. Già da domani potranno prenotare l'inoculazione le persone nate fino a tutto il 1971 compreso. Non sarà più necessario quindi aver compiuto i 50 anni. Sul nuovo caos che riguarda il tempo d'attesa tra la prima e la seconda iniezione di Pfizer il presidente Fedriga ha auspicato che si arrivi a una regola condivisa da tutti ricordando però che l'EMA e le autorità sanitarie hanno specificato che il richiamo si può fare fino a 42 giorni. Il governatore è intervenuto anche sulla proposta della conferenza delle regioni presentata oggi al governo di superare l'attuale incidenza dell'RT come parametro guida per determinare lo scenario nei vari territori a favore del tasso di incidenza e di occupazione dei posti letto. Le regioni chiedono di superare definitivamente il sistema delle zone a colori se la diffusione del virus lo permetterà. Intanto il vicepresidente con delega alla salute Riccardi ha reso noto di essere stato oggetto negli ultimi giorni di attacchi e minacce pesanti sui social da parte dei Novax che ha prontamente denunciato in procura. Solidarietà all'assessore è stata espressa da vari partiti politici presenti in consiglio regionale.